Ciao, io sono Itzy di Itzy's Choice, sono una stilista evidentemente, oggi ho sfilato con degli abiti, con dei tessuti africani, fatti con modelli europei, perché penso che quello sia la cosa che mi rappresenta di più, perché io sono in parte africana ma in parte italiana. La parte africana lo dimostro con quelli che sono i miei tessuti, i colori e la parte italiana lo dimostro con quelli che sono i modelli, perché comunque io amo giocare con i modelli, i tagli molto prettamente italiani. Questo è quello che faccio e mi potete trovare a Brescia o su Instagram tramite Itzy's Choice, seguitemi mi raccomando. Oppure potete venire da Brescia in via Cairoli 13 dove io ho l'atelier con mia mamma che è la persona che mi ha insegnato a cucire con le prime bambole, i primi vestitini per le bambole. Mi ha insegnato lei le prime cose e piano piano con lei sono cresciuta e siamo diventati quelli che siamo. Itzy's Choice. A voi, grazie. Grazie.